se ti serve un gruppo per giocare con qualcuno fare glitch scambiare o fare anche raduni ti ricordo di entrare nel mio gruppo telegram è il più grande in italia link in descrizione ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto al titolo come ogni giovedì aggiornamento settimanale quindi come vedete l'auto del polio la drift tampa la potete vincere sempre con il trucco della ruota infinita come al solito prima di cominciare iscrivetevi al canale ed attivate le notifiche e soprattutto seguitemi su instagram trovate il link in descrizione mi raccomando passateci per rimanere aggiornati sempre su gt online scusate se il video è uscito in ritardo ma ve l'avevo già insomma pubblicati nel canale telegram quindi trovate comunque il link nella descrizione invece per quanto riguarda il veicolo dell'autoraduno trovate la calico gtf invece i veicoli del test track sono i seguenti come vedete sempre tre ne mettono li cambiano ogni settimana ovviamente sfida veicolo trofeo dovrete posizionarvi tra i primi in una gara della serie di inseguimenti per cinque giorni di fila quindi come vedete si può vedere dal menu interazione per quanto riguarda gli sconti abbiamo la emperor vectre sul legendary motorsport in seguito abbiamo la inventero coquette d10 o inventero coquette dio insomma vedete voi come chiamarla poi hanno aggiunto un nuovo veicolo su san andreas che è il seguente la obey e-wagen che sarebbe insomma un suv della audi tutto qui domani uscirà il video modifiche e se vi conviene acquistarlo o meno quindi quindi è semplicemente un suv invece su warstock abbiamo il barrage scontato e poi un tris di veicoli ovvero il blazer acqua il boxfield e il wastelander che personalmente non ho mai comprato e mai utilizzato fatemi sapere come nei commenti però non credo sia insomma corretto spendere tutti quei soldi per quel veicolo poi su bennis abbiamo la progenitaly gtb come vedete scontata invece per quanto riguarda i business non ci sono business scontati abbiamo solamente l'armeria scontata quindi se volete insomma modificare e aggiungere l'armeria alla vostra agenzia lo potete fare conviene comprarla secondo me per 500 mila dollari ci sta risparmiando 200 mila certo non è essenziale però se volete sbloccare le armi nuove potrebbe essere utile anche per le livre anche se lo potete molte cose le potete fare anche da insomma ammunition invece sempre parlando di armi abbiamo lo stun gun e l'mp launcher scontati li comprate sempre a 250 mila quindi scontati insomma non tantissimo però è 50 per cento praticamente se non ricordo male per quanto riguarda i soldi tripli abbiamo tutte quante le missioni di simeon che potete avviare da missioni come vedete hanno soldi ed rp tripli e invece per quanto riguarda i soldi e gli rp doppi ce l'abbiamo solamente questa settimana sulla modalità competizione base missilistica caccia all'uomo come vedete è la seguente ed è l'unica avere i soldi doppi e i soldi tripli per quanto riguarda le prove a tempo questa settimana sono queste qui spero che il video vi sia stato utile mi raccomando iscrivetevi al canale vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video